Ma perché? Perché? Allora, da dove cominciare? C'è purtroppo veramente molto 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 da dire. Iniziamo dal principio. Recentemente la casa editrice Tlon e lo studio Wild Side decidono di fare un progetto congiunto chiamato Odiare ti Costa. Il sottoscritto pur condividendone le premesse, quindi i perché, non condivide minimamente il come e quindi decido molto liberamente di fare una brevissima live sul mio canale. Intanto a proposito di brevissima live sul mio canale, vediamo se è partita la live sul mio canale. Vediamo un pochino. Scusate, purtroppo quando sono da solo, senza Riccardo. Allora, eccoci qua, eccoci qua. Oh, perfetto. Quindi comunque mi sento. Perfettissimo. Decido di fare una live dove esprimo ma molto molto sommariamente la mia opinione dicendo che ho dei dubbi. merito ma sono stato totalmente, come direbbero in inglese, polite, cioè sono stato veramente politically correct, non ho attaccato, non ho ingiuriato, non ho insultato. Anzi, cioè andatevelo a risentire, sono stato veramente, veramente, veramente corretto nell'esporre in maniera democratica, democratica, la mia libera opinione. E cavolo, cioè ti sei esposto, caro progetto Odiare ti Costa? E se ti sei esposto, cioè ti esponi, ti esponi anche alla critica, non si può, non si può pensare che tutti debbano andare d'accordo, tutti debbano sposare il progetto. E' ingenuo, è immaturo pensare una cosa del genere. Io non so cosa abbiano pensato queste persone, sia chiaro. Però questo sembra, vorrei sbagliarmi chiaramente, dov'è il problema? Arriviamo al nocciolo così andiamo anche un po' in velocità perché non ho tutta la giornata da buttare. Dov'è il problema? Che appena mi sono azzardato, ho osato e avuto l'ardire di dissentire, sono successe delle cose strane, e chiamiamole strane. Prima di tutto vengo contattato da uno degli organizzatori di Tron, o meglio, diciamola tutta, io per correttezza, dato che ho avuto un rapporto personale con questa gente, sono andato in privato, l'ho contattato in chat uno di questi organizzatori di Tron e gli ho detto Caro Pinco Pallino, guarda, ti dico che ho intenzione di parlare di voi, te lo dico per correttezza e trasparenza, in nome comunque del dibattito, della libertà di opinione, quindi ti avviso proprio perché non voglio farti nulla alle spalle. Questa persona non l'ha presa bene, evidentemente, non l'ha presa bene, l'ha buttata sul personale, ha cominciato a dire non me l'aspettavo dopo una serie di cose, eccetera, e mi ha dato la risposta secondo me più agghiacciante che in questo contesto mi si poteva dare, ossia, si domandava, mi interrogava, adesso non mi ricordo le parole precise, perché hai voluto fare una cosa pubblica e non me lo sei venuto a dire in privato? Siamo, siamo ormai in una situazione pubblica. A. B. Ma un personaggio come me che c'ha un sacco di follower, che c'ha un sacco di cose, ma che pretendi? Ma è ovvio che io ne parli, perché non dovrei parlarne? Per quale motivo io non dovrei esprimere dei dubbi o comunque dissentire pubblicamente che non c'entra un rapporto personale, dissentire pubblicamente e esprimere dei legittimi dubbi su un progetto? Non è un attacco personale, non sono andato a dire in giro Ah, Mario Rossi è un figlio di puttana, dici, oh! Oppure, ah, Mario Rossi però è stato scorretto con me e raccontare i cazzi privati, perché giustamente Mario Rossi mi dice, scusa, ma fiammela di a me, no? Ma nel momento in cui voi state facendo un'opinione in pubblica piazza, Ah, ma c'avrò tutto il mio sacro santo diritto, sacro santo diritto, di rispondere anche io in pubblica piazza? Cioè, vogliamo mettere a tacere tutte le voci contrarie? Cioè, è questo il sottotesto, c'è il sottomessaggio, il sottotesto? Io spero vivamente di no. Spero vivamente di no, perché non si può pretendere che tutte le voci contrarie tacciano. Il problema dove sta? È che non si sono limitati a questo. C'è stato uno step ulteriore. Sia chiaro, nulla di questo è un illecito. Secondo me, dal punto di vista morale, o comunque di rapporti interpersonali, sono scorrettezze, ok? Scorrettezze. Non siamo nel legale, siamo nelle dinamiche interpersonali, quindi soggettivamente l'ho vissuta come una cosa poco carina. Si sposta il problema. C'è stato qualcuno che, dato che comunque la mia live, indipendentemente che non la pensavo come loro, sono stato rispettoso, sono stato gentilissimo, ho sollevato dei legittimi dubbi, allora è andata lì, ha postato la live molto ingenuamente e ha detto, che ne pensate di questa cosa? Quali sono i problemi che Luca potrebbe avere identificato all'interno di questo progetto odiare ti costa? Lo ha fatto nel loro gruppo chiuso, che è Amici di Tron, che all'attuale vanta circa 6.000 persone. la reazione è stata terribile, terribile. Il post è stato cancellato, la persona in questione è stata bannata, ma ancor peggio, a quanto pare, a quanto dichiarano e raccontano alcuni testimoni che io adesso vi mostrerò qui, andiamo in... ... ... ... ... ... ... Voilà Questi sono commenti Che sono stati scritti Sotto la mia live Diverse persone quindi Sia pubblicamente In quelli che vi ho potuto leggere Sia in privato Come messaggio privato E chiaramente non ve li posso far leggere Sia nel mio gruppo privato E anche lì non ve lo posso far leggere Quindi diverse persone Hanno lamentato il fatto che Il semplice gesto di aver messo Mi piace o essersi comunque informati Sul perché Luca Non la vede come quelli di Tlon Ha portato quelli di Tlon A fare un ban ad aria Indiscriminato proprio così Chiunque si avvicina a questa cosa Abbandi banni 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 What a fuck? Ma veramente? Cioè io all'inizio All'inizio diciamo Dai va bene Si saranno sbagliati Non è possibile Avranno pensato che magari Volevi provocare Oppure E' quell'altro Quando me ne arriva E' uno E' due E' tre E' quattro E' cinque Ma allora Allora c'è un problema, allora il problema è non vogliono essere contraddetti, il problema è non vogliono sentire voci contrarie di nessun tipo, il problema è vogliono evitare i contraddittori in ogni maniera, non lo so, qual è il problema? Ho provato a chiedere spiegazioni, mi dite gentilmente qual è il problema, gliel'ho scritto più volte con tag e tag e tag, qual è il problema? Qual è il problema? Qual è il problema? Niente, niente, silenzio più totale, c'è capito, c'è capito, chiunque, chiunque abbia a che fare con, da grande voglio fare Buddha, sia stata una pagina misticisomirazionalismo e abbia messo like alla live dove legittimamente, legittimamente, dico che odiare ti costa, quindi manca un attacco alla persona, odiare ti costa, mi lascia molto perplesso, sappiate che verrà bannato da quelli di Tlon, se sa, se sa, come dobbiamo intenderla? Si fanno garanti con questo progetto, odiare ti costa, ma lo dicono anche quello che mi lascia ancora più perplessa, benvenga il contraddittorio, mi ricordo, vado a memoria, e quindi se mi sbaglio, attenzione, benvenga il contraddittorio, benvenga il dibattito, eccetera, ma che non si facciano reati? E dove cazzo è il reato nel mettere like a una live educata e rispettosa? E' un reato? Fateci le segnalazioni di tutti quelli che odiano, dicono, così che noi provvediamo, e chiunque mette like adesso dovrà essere segnalato? Come funziona? Vi prego spiegatemelo, lo dico a te Andrea, lo dico a te Maura, lo dico anche a te Avvocatessa della Torre, come funziona? Cioè, com'è sta cosa? Come si spiega? Non finisce qui, dici, vabbè, alla fine hanno fatto solo dei bann, no. E ora, abbandoniamo lo scherzo, abbandoniamo la battuta e ci facciamo seri. Quindi, prenderò provvedimenti perché personalmente sono sicuro, ma il fatto che io sia sicuro poi nelle sedi adeguate si dimostrerà e stabilirà. Secondo me c'è stato una scorrettezza, un, chiamiamolo, non lo so come dire, un illecito, qualcosa che in un certo qual modo non va bene ed è oltre la semplice opinione. Ovviamente, ovviamente, mi sto già interfacciando con il mio legale a cui ho delegato ufficialmente e mandato, affinché lui, come tecnico di settore e nelle adeguate sede, faccia chiarezza. Faccia chiarezza perché, secondo me, è stato fatto qualcosa di sbagliato ai miei danni. Qualcosa di sbagliato che potrebbe, ah, ledere la mia immagine, ledere la mia persona, comunque impattare negativamente anche su tutto quello che io sto cercando di costruire sul web. A che cosa mi riferisco? Tanto tempo fa c'è stato un problema molto simile, un problema molto simile. Ossia, io mi sono permesso di esprimere una opinione e sulla base di una opinione che io ho espresso ho ricevuto delle risposte brutte, molto brutte. Ovviamente, vabbè, a me queste cose mi invitano a nozze, cioè, chi lo sa, io sono un noto, diciamo così, accettatore di sfide. Nel senso, tu mi vieni a rompere le palle, io non mi allontano, ma anzi, di fronte a qualcosa, mi ci diverto, ci entozzo. Quindi, di fronte a queste risposte poco carine, ho risposto tono su tono. E quindi si è creato un problema interpersonale. Perché? Perché se io dico, non mi piace questa cosa che dici, oppure questa cosa che dici è una stronzata, non sto dicendo, tu sei uno stronzo, non sto dicendo, tu sei un coglione, sto dicendo, questa cosa è una stronzata. Evidentemente non è stata recepita così al tempo, e questo ha innescato una risposta invece che attaccava sul personale. Adesso lo approfondirò meglio, magari nei video che farò in seguito. Da lì, da lì il contenzioso, perché io poi gli ho risposto tono su tono, a un certo punto abbiamo detto, vabbè, Amen, ognuno per la sua idea, ognuno per la sua strada. Capita però, che vuoi o non vuoi, comunque abbiamo amicizie in comune, situazioni in comune, ci siamo ritrovati insieme una sera. E allora abbiamo detto, oh, siamo persone adulte, responsabili, siamo persone mature, vai, sediamoci al tavolino, davanti a un caffè, non bevo caffè quindi ero davanti a una Coca-Cola, e chiariamo, no? Che sti cazzi, ma sì, che ci siamo detti mai? E abbiamo chiacchierato in amicizia, io e uno di questi organizzatori di Tron, dal punto di vista mia, appianando i dissapori. E' saltato fuori l'argomento, scusa Luca, ma tu perché prendi per il culo la gente? E ho spiegato tutta una serie di motivazioni, dove in realtà il mio prendere per il culo la gente ha, secondo me, un valore sociale. Ha una necessità di dimostrare alle persone quando in realtà loro fanno schifo come gli altri. Cioè, il mio, chiamiamolo compito sul web, se vogliamo definirlo così, non è quello di andare a buttare merda gratuita sulla gente. Quando la gente si sente qui, quando la gente crede di stare qua, io mi diverto a bucare il pallone gonfiato e ricordargli che è una merda come tutti noi. Perché? Perché io sono una merda, e dato che sono una merda, sono molto bravo, ma veramente molto bravo, a riconoscere chi è merda tanto quanto me. Questo era più o meno il discorso che ho fatto quella sera. Poi vabbè, ho tutta una serie di strategie, ho tutta una serie di meccaniche proprio per fregare l'interlocutore, ma quella è abilità dialettica. La realtà dei fatti è far capire all'interlocutore che non deve viaggiare qua, perché fa schifo tanto quanto me. E far capire alla gente circostante che magari viene illusa, o presa per il culo, o ingannata dal ciarlatano di turno, che quella è una merda come tutti e quindi lo devono rimettere al loro posto. Questo è stato il senso delle mie parole quella sera che abbiamo chiacchierato. Al che lui mi dice, ah beh, molto interessante, mi hai fatto venire un'ispirazione per scrivere una storia inventata. Tanto che, tanto che, adesso attenzione vado sul tablet, non vado da qui perché se no me lo perdo, e voglio evitare di farvi vedere sullo schermo. Tanto che, scrive quest'articolo che si chiama, anzi, ve lo faccio vedere da qua. Ve lo faccio vedere da qua. E voilà. Ce ne andiamo qua. Mi state ancora sentendo come audio? Sì, 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 ok, funziona. Ce ne andiamo qua, Michele Biondini, lo chiudiamo gentilmente. Se ne escono con quest'articoletto che si chiama Viaggio nella mente di un odiatore, dove utilizzano questo nome che si chiama Vito, nome di fantasia, lo specificano. È un ether professionista, e poi mettono una serie di quote, cioè tipo delle frasi che questo Vito avrebbe detto quella sera. Cioè, questo è proprio un quote, cioè, Vito ha detto questo. Mi dice tantissimo mandare matti la gente, distruggere gli altri, fare del male coscientemente, eccetera. E poi, ovviamente, si apre l'articolo e dice una serie di cose dove dipingono questo Vito, praticamente come una sorta di psicopatico, un cattivo dei fumetti venuto male. Cioè, qualcosa di veramente, cioè, una persona squallidissima che, cioè, vabbè, però sai, è una storia inventata, dici, vabbè, è una storia inventata. Tanto che, quando poi pubblicano questa roba, c'è lo stesso autore dell'articolo che mi scrive, scusate, lo cerco, lo cerco da quest'altra parte. Mi scrive, ho scritto un racconto ispirato al nostro incontro. Quindi questo racconto è ispirato al nostro incontro. In gran parte è fittizio. Testuali parole da messaggio privato che l'autore mi ha mandato. Ispirato al nostro incontro, in gran parte fittizio. Questa frase, ovviamente, è indicativa. Perché? Che vuol dire? Vuol dire che, al di là di tutto, comunque, non sono io. Ispirato in gran parte, no, in gran parte fittizio. Vuol dire che non sono io. Ma, ma, al seguito di tutto ciò, a proposito, al seguito di tutto ciò, giochiamola ancora un po' più diretta. Ecco il post. è un personaggio reale, che non si chiama Vito. Reale, che non si chiama Vito. Ovviamente a me, a me hanno detto che era in gran parte fittizio. Qui dicono che è reale. E sotto, io vi inviterei a leggere, si scatena una sorta di shitstorm. Ai danni di questo Vito, che poi, in realtà, va capito adesso chi è Vito, e lo vedremo dopo, dove gli dicono di tutto. Gli dicono malato mentale, no psicopatico, di tutto. Cioè, ragazzi, è una sassaiola dell'ingiuria. Loro, loro, che erano quelli della difesa, della legalità, sul web, contro l'odio, una sassaiola dell'ingiuria, ai danni di questo Vito. Ma sai, finché Vito, che è in gran parte fittiziamente inventato, bla bla bla, va pure bene. Se non fosse che, a un certo punto, in questo gruppo di Tlon, scusate, sto cercando il messaggio, in questo gruppo di Tlon, dove ci sono 6.000 persone, qualcuno ha l'ardire nuovamente, l'ardire nuovamente di chiedere. Scusate, ma la live di Luca era stata educatissima. Perché l'avete cancellata? Qual è il problema? Io, il protagonista, non era in gran parte fittizio? ama fare del male. Cosa? Amo cosa? Ma stai scherzando? Mi stai prendendo per il culo? È uno scherzo? A noi lo ha detto esplicitamente. Io che cosa avrei detto a te, che manco ho parlato quella sera con te? Ma che cazzo ti stai inventando? Ma, cioè, questo è mentire spudoratamente, mentire spudoratamente, sapendo di mentire con tanto di prova che dice che non è così, con quale finalità? Unicamente, unicamente, almeno io questa la vedo, poi magari mi sbaglio, magari avrà altre finalità sue magiche questa persona, io non lo so, ma a me risulta palese, lampante, mi vorrei sbagliare e spero di sbagliarmi, che l'unica finalità di questa persona è mentire al fine di screditare il sottoscritto, al fine di, non lo so, diffamare, mi verrebbe da dire, non ne ho idea, non so qual è il termine, sto sparando parole a casaccio. Chi è che non sparerà parole a casaccio? Il mio avvocato nelle adeguati sedi. Adeguate, sedi, boh, vabbè, quello che cazzo è. Mi dispiace, personalmente, reputo questa cosa una... A parte, umanamente meschino, umanamente meschino, cioè proprio, che schifezza, cioè, ma veramente, veramente cancelli tutti quelli che parlano opinioni opposte a te? Ve la prendete, se qualcuno ha l'esa maestà, ha detto che non è d'accordo, ve la prendete, ve l'offendete, chiudete i rapporti, e arriviamo a scrivere delle falsità oggettive, falsità oggettive sul sottoscritto. E voi, e voi vi siete appena dichiarati, i difensori del web, i difensori della legalità, ah, segnalate, fate, perché noi provvederemo, va bene, segnalerò alle autorità competenti. I'm sorry, non ho cominciato io. Io mi sono limitato ad esprimere legittimamente la mia opinione. E il resto, ragazzi, l'avete fatto tutto voi, siete adulti, responsabili, adesso vi prendete le responsabilità delle vostre azioni. Le autorità competenti saranno avvisate, vediamo come andrà avanti. Magari mi sbaglio io e vedo delle scorrettezze che non sono scorrettezze, magari vi siete sbagliati voi, e chissà. Detto questo, voglio evitare di andare avanti, perché parlando a ruota libera uno dice sempre cose che magari non intende, o comunque si potrebbe sbagliare, e niente, ovviamente usciranno dei video dove analizzerò ancora meglio il fenomeno. Ovviamente io non mi metterò a tacere in nessuna maniera, finché rimarrò nei limiti della legalità è un mio sacrosanto diritto esprimere il mio dissenso. Prima di chiudere avevo lanciato un hashtag chiamato liberi di odiare, tuttavia mi hanno fatto notare giustamente che io ero partito not provocatorio, ma liberi di odiare come hashtag potrebbe a tutti gli effetti essere inteso in maniera diversa, cioè come se io incito la gente a fare degli illeciti, no assolutamente. Pertanto cancelliamo l'hashtag liberi di odiare, utilizzeremo un altro hashtag che non ho coniato io, quindi io non ve ne parlerò adesso, ma ci sono altri influencer, in particolare un altro influencer che mi ha garantito che in settimana o la settimana prossima parlerà anche lui delle controversie che ha riscontrato all'interno di questo fenomeno odiare ti costa e sarà lui a lanciare un hashtag che ho reputato perfetto, perfetto e veramente funzionale, quindi da questo momento in poi lasciamo stare liberi di odiare e quando sarà reso pubblico quell'altro hashtag io mi aggregerò a quell'hashtag e utilizzeremo tutti quanti quello per contrastare questo odiare ti costa dove poi se ancora capito a pagare chi sarà. Detto questo io vi saluto, chiudo la live stream e niente, ciao ciao. Stop!